Benvenuti nel mondo degli orologi Nixon. Nixon è un marchio americano di orologi accessori fondato nel 1998 a Ensenidas, in California. Il marchio si è affermato come un produttore di orologi di alta qualità e stile, con una particolare attenzione alla funzionalità e alla durata. Tra i modelli più popolari troviamo il Time Teller, il Sentry, il Regulus e il Mission. Il Time Teller è un orologio classico e minimalista, disponibile in una vasta gamma di colori e finiture. Il Sentry è un orologio elegante e sofisticato, dotato di un movimento giapponese a tre lancette e un indicatore del giorno della settimana, ideale per chi cerca un orologio di alta qualità e funzionalità. Il Regulus è un orologio dalle alte prestazioni progettato con il contributo diretto del personale delle forze speciali degli Stati Uniti. Costruito per resistere alle condizioni più estreme e per rispondere solo alle esigenze operative fondamentali, Regulus è pronto a tutto. Infine, il Mission è un orologio smartwatch dotato di GPS, Google Pay e tutte le funzioni necessarie per la pratica di sport all'aperto, ideale per chi cerca un orologio avanzato e tecnologico. Gli orologi Nixon sono molto apprezzati dagli appassionati di orologi e di moda per il loro stile unico, la qualità dei materiali utilizzati e la loro funzionalità. Grazie alla loro attenzione ai dettagli e alla loro qualità artigianale, gli orologi Nixon sono diventati un simbolo di stile e di funzionalità per gli appassionati di orologi di tutto il mondo. Per chi cerca un orologio dal design unico e raffinato, Nixon è sicuramente il marchio giusto.